L'infa nuova nella squadra di Pallamano dell'Albatro Siracusa arriva infatti e si è presentato questa mattina Oneto Zuniga, il nuovo pivò. È veramente per noi anche un privilegio poter annunciare l'arrivo di Marco Oneto, meglio conosciuto Marco Oneto, anche se ha due cognomi e due nomi. Privilegio perché si tratta di un giocatore di assoluto livello che con le squadre di club ha vinto tutto, la prima, la più importante è la Champions League con il Barcellona, ha vinto pure la Challenge Cup questo appena un mese fa. Oltre a diversi titoli in Spagna, in Ungheria e in Portogallo. È un giocatore di spessore assoluto, anche come persona, abbiamo imparato a conoscerlo proprio nella fase delle trattative, una persona che sicuramente ci darà una grande mano nella crescita sia dal punto di vista della squadra ma anche dal punto di vista della società e del livello che noi cerchiamo sempre di migliorare.